Come previsto, per lo sport lucera non è stato facile affrontare il Manfredonia Calcio, avversario che ha fatto visita ai Bianco Celesti nel giorno del ritorno allo stadio comunale. 1-3 a favore dei Manfredoniani, il risultato finale della gara valida per la nona giornata del campionato di prima categoria Girone A. La compagine lucerina è partita senza tre titolari, Pontone, Carità e De Emilio, che hanno deciso di lasciare la squadra prima di domenica. Pertanto, mister Bertozzi ha dovuto reinventarsi la formazione. Nonostante ciò, lo sport lucera non ha sfigurato di fronte al Manfredonia, che comunque si presentava come una compagine forte, ben organizzata e che lotta per la vittoria del campionato. Il primo gol della partita si è registrato al ventunesimo minuto, trotta in aria, ha centrato la rete portando il Manfredonia in vantaggio. Nella ripresa, subito il raddoppio degli ospiti, con il gol di testa firmato da Santoro. Dopo sei minuti, il lucerino Nico Pellegrino, tornato a far parte della rosa bianco-celeste, ha accorciato le distanze. Ma i Manfredoniani hanno chiuso la gara al trentesimo del secondo tempo, con Recchia che ha siglato l'uno a tre. Mister Bertozzi vuole partire dal buono che è emerso in questa prova, contro una squadra superiore. La sconfitta proietta lo sport lucera in penultima posizione, ma il percorso è ancora lungo e per la squadra lucerina le chance di recuperare sono ancora tutte da giocare.